Due giorni dopo Carota? No, grazie Davvero sei convinto che quella carta ti aiuterà a salvare tuo padre? Ci credo Ti rendi conto di quanto sia assurda questa idea? Mi ricordo la prima volta che ho visto tuo padre al cinema Eh già Era di una bellezza unica I tuoi capelli hanno un buon odore Hai detto qualcosa? No, niente, dicevo buonanotte Mi devi credere Duffy, ho sentito i fratelli Warner dire che eri la loro anatra migliore Stavolta non mi lascerò lo fingare ma nemmeno malmenare affinché tu facci accendere il pubblico Sempre E poi E la tua coda prende fuoco Esatto, ci siamo capiti No, davvero la tua coda ha preso fuoco Ma che di coda fare con te? Per te è facile, ti basta masticare una carota e conquisti il cuore della gente Comunque Pensavamo che fosse qualcosa Senti, l'appuntamento di mezzogiorno lo devi spostare prima alle due, poi alle undici e alla fine lo cancelli Trovami anche un elicottero e... No, no, non mettermi in attesa Oddio Io non posso morire in questo deserto Anche perché non era affatto previsto Dopo questa... Commediona Ti riprometto di fare solo film denuncia di forte impatto sociale sulla tristezza della condizione umana Nient'altro che montagne per chilometri in quella, in quella, in quella e in quella direzione Perciò... Vale milioni di euro Io direi di là Senti, chi vuoi prendere in giro? Siamo spazzati Acqua! Non posso morire ora Pensate ai milioni di bambini che vogliono che io trovi il diamante Oh, povere piccole creature Guardate là Walmart Megastore Che cos'è? Un miraggio o pubblicità semi-occulta? E chi se ne importa? Con tutti quei prodotti a prechi così bassi Acqua, acqua per nel monte E' sempre fresca nella tonda E' stata tu l'idea? Ehm... Cos? Ok Il pubblico se l'aspetta, non ci fa più neanche caso ormai In questo caso, sì Gentile la Walmart a darci queste bibite Walmart solo perché abbiamo nominato la Walmart di varie volte Dov'è Yosemite Sam? Voglio il tuo rapporto Capo, non è stata colpa mia ma di quella natra stannazza-nazza di quel passoide dirigente, quel ficcanasso di Dasty Tensel Una giustificazione molto sensata Grazie Allora, signor Drake, ci risparmia la seccatura di dover eliminare il suo figlio? Mio figlio ti piallerà le chiappe a furia di calci Presidente! Sì, papà? Nel deserto abbiamo un agente Un agente speciale L'idea non è male, papà Il nostro agente nel deserto sbania per una vittoria Mi 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 Guardiamo quel disco Coyote, este dos agente che è finito di Ombus Pronto Lo sapevo, dovevamo girare a sinistra l'improggio a Giamutelli Cominciare, ti prego Per informazione, a me Vediamo Lancia missili Carta da regalo è gratis Spedizione via terra due giorni immediati Hai? Allora, ecco il mio piano Aspetterete qui che passi un camion, una macchina, un cammello, qualsiasi mezzo In modo che Bugs e Duffy possano tornare a Hollywood a finire il film Tu invece che farai? Proseguirò da quella parte E lo chiami il piano? Già La macchina andava in quella direzione La direzione La direzione Non voglio essere coinvolta nei vostri misfatti ma supponiamo per un attimo che tu dica la verità e che Daniel Drake sia una spia Una super spia Che senso ha vagare nel deserto se... Tieni Auguri Così si fa, fidarsi dell'istinto Sì, ma a lui non ha servito quella più sterna dell'acqua, la Batmobile e la città di Las Vegas Non è possibile che uno ricco, famoso e potente come mio padre si sia, come, di solito, nell'aria Mi fa venire in mente la gelatina della zia Marge Ragazzi, c'è l'aria condizionata qui, venite Dentro Incrusione, all'aria, intrusione, all'aria, intrusione, all'aria Che succede? Un mostro! Incrusione, all'aria, intrusione, all'aria, intrusione, all'aria Calma, 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 buoni, 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 bene Ah, sto a giocare ora, eh, dove sono Daniel Drake e il diamantone Ripulire il corrido Posso aiutarvi? Sono programmato per rispondere al nome di Robby Ciao, DJ Oh, ciao Riposo, riposo Io sono mamma La macchina aveva detto che ci avrebbe portato da te Come sai il mio nome? Oh, DJ, ti conosco da quando eri così Eh no, questo non è possibile, eh Eh Sarà stata una foto? Scusate, se stiamo una così, te? Mi dica la verità, quanto è grave? Allora, andiamo? Va bene Poco da fare, così tanto tempo Scusi, me lo ripristino, vero? Non posso tornare con un brodino d'anatra a Los Angeles? Sì, noi disponiamo delle conoscenze e dei mezzi per ricostituire il corpo Ma la mente, purtroppo, resterà di quel fatto Ah, è così? Che sai di mio padre? Ogni cosa ha il suo tempo Ottimo, sì, prego Sentito? Andate ragazzi, bei camici, siete molto eleganti qui Adesso? Sono lento Oh, guardate Insomma, questa è l'area 51, vero? No La base militare segreta in cui vengono tenuti gli alieni? No L'area 51 è un insediamento fantasma che ci siamo inventati noi Per tenere nascosti l'esistenza in nome di questa installazione Che sarebbe? Area 52 Ma io non vi ho detto niente? Oh, certo Area 52 Sì, svitata fuori palla Insomma, madre Oh, chiamami mamma Ah, mamma Cosa fate qui dentro, in sostanza? Oh, beh, ricerca, manipolazione genetica, incroci di razza Sì, che bisogna fare subito qualcosa Loro saranno già qui Siete pazzi Oh, sì Insomma, che cosa dovrai fare con te? Tu fallisci continuamente Cadi dai precipizi Vieni spiaccicato dai macigni Finisci sotto le ruote dei camion E non incolpare i mezzi I mezzi sono all'altezza È materiale acne Tu sei un coyote Sei più astuto Basta ora Su col morale Faccio un sorriso, dai Fallo meglio? Più smagliante Su Ecco, ora ci piace E adesso Vatti a fare una doccia E non tornare se ancora puzzi Ah, beh Attento alla cassaforte che stanno scaricando Non vorrei C'è anche una cassa di fuochi artificiali Ma Suppongo che avrei dovuto dirgli anche delle vetratte nuove È difficile fare il boss C'è anche una cassa di fuochi artificiali